Quindi chi dice una cosa e chi ne dice un'altra e poi è un periodo di stress e di ansia che comincia dal tribunale e poi va a finire in ufficio, ne vogliamo parlare in ufficio, mentre stai a discutere di una curatela parlamentare arriva quello che vuol sapere della causa del divorzio, stai parlando della causa del divorzio arriva quello che vuol sapere del risarcimento assicurativo e quindi accontenti l'una, accontenti l'altra, come fai? Devi stare a seguire, uno a uno devi stare a seguire. Allora io proprio ti chiedo, tu come fai a liberarti degli scorciatori che vengono qui nel tuo ufficio? Non ho capito, scusse. Come fai a liberarti degli scorciatori che vengono qui in ufficio? Che vengono qui, semplicissimi diciamo, in caso mio il mio segretario bossa e dice, avvocato, c'è il presidente della corte d'appello che desidera conferire un recentemente con lei. Sì? Avvocato, scusi, c'è il presidente della corte d'appello che desidera urgentemente conferire con lei.